Questi ragazzi che alleniamo non hanno bisogno di motivazione da parte mia. Non ce n'è bisogno, perché sono consapevoli del prestigio di questa maglia e di questa città. Le loro motivazioni, le nostre motivazioni, le più grandi, sono la città, il Napoli e il suo popolo. E se uno pensa a queste cose qui, se uno quando va in campo invece d'avere il problema di quando andare a riprendere il cugino che è da qualche parte per andare a cena fuori, ma pensa a quello che è la città di Napoli, pensa a tifosi del Napoli, pensa a quella che è la storia di questo popolo calcistico, non c'è bisogno di motivazione. L'essenziale è andare ad avere pensieri giusti, occhi puntati sulle stelle, piedi ben saldi per terra e si va a giocare.